Sono 135 nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in campagna sui 3.026 tamponi esaminati. Dei 135 nuovi casi sono persone di rientro, 41 dalla Sardegna e 30 da paesi esteri. Il totale dei positivi in campagna dall'inizio dell'emergenza supera quindi quota 6.000 e raggiunge il numero di 6.111, mentre sono 393.265 i tamponi complessivamente analizzati. Secondo i dati forniti dall'unità di crisi della regione campagna c'è anche un nuovo decesso. Il totale dei deceduti così da inizio emergenza è 443, 4.373 le persone guarite. Intanto da domani l'ospedale Cotugno di Napoli raddoppierà la propria capacità di posti letto nel reparto di terapia subintensiva. Il reparto pertanto passerà dagli attuali 8 posti letto previsti dal piano ospedaliero a 16. Una decisione presa dalla direzione dell'ospedale dei Colli. Ad oggi al Cotugno sono 11 ricoverati in terapia subintensiva e 2 quelli in terapia intensiva, entrambi intubati, di cui uno, un signore di 92 anni, trasferito nella sera di ieri da Ischia con diverse patologie correlate. Pieno con 16 pazienti, tutti positivi al Covid, anche il reparto di ricovero ordinario. Dal bollettino dell'Asle di Caserta emergono altri 15 casi di positività nelle ultime 24 ore nel territorio della provincia. Il comune più colpito è Aversa, con 46 positivi. Grazie. Grazie.